Beh, ci facciamo un bicchierino prima di andare in servizio? Se fuori fa freddo, questo fa bene, dai! Ah, vedi già, cominciò a riscaldare. Oh, collega, dobbiamo stare otto ore insieme, ti devo tenere con quella faccia. E dai! No, eh... Cioè, sto pensando... Alla scuola elementare. Tu sei arrivato a 30 anni per pensare alla scuola elementare. Sì, sì, perché? Perché? Perché c'è di strano. No, adesso te lo spiego, c'ho un dubbio, un dubbio che mi ha sempre assillato, sempre. Giusto? La maestra, quella maestra, quella maestra, che chiamava sempre i miei compagni di classe col diminutivo, col diminutivo. Invece che col nome, col diminutivo, tranne me. Con me non lo faceva. Cioè, diminutivano? Sì, ad esempio, il mio compagno Fabio, lo chiamava Fabiolino, Vincenzo Vincenzino, Aldo Aldino, Giovanni Giovannino. Con me non lo faceva mai. Io non ho mai capito perché. Alfredo, Alfredino. Marco, Marcolino. Vabbè, va. Andiamo in servizio. Mentre andiamo, te lo spiego io. Vieni, Pompeo. E poi... Beh, vi compri, vieni. No, te lo spiego itu. Allora, carolo. Grazie.